Per fare le uova ripiene servono delle uova biologiche, 3 pomodori o 4, una scatoletta di tonno, dei capperi, 2 cipollotti sott'aceto, sale e olio d'oliva. Faccio bollire le uova nell'acqua per 10 minuti. Leviamo la buccia dopo che si sono raffreddate, taglio le uova a metà, metto il tuorlo nel frullatore, lungo il tonno, i capperi e le cipolline, metto due bei cucchiai di olio d'oliva extravergine, un po' di sale, paglio i pomodori, frullo. Quando il frullato è pronto metto il ripieno e le uova tagliate. Riempio anche i pomodori. Sporre il piatto con due foglioline, tre di insalata, poi lo metto in frigo per un'oretta. Pranzo è pronto, buon appetito!